Una notizia inaspettata e triste ha coinvolto Belen Rodriguez. Riguarda in particolare la sua relazione sentimentale, infatti non ci sarebbero ormai belle nuove con il suo fidanzato. Si era parlato recentemente di qualcosa di molto importante, dato che si vociferava della possibilità di una convivenza imminente. Ma qualcosa è accaduto una settimana fa, nel giorno del compleanno di lei. Belen è il fidanzato quando ha compiuto 40 anni, parliamo dello scorso 20 settembre, avrebbe dovuto avere un faccia a faccia ma le cose non sono andate benissimo. A scoprire tutto sono stati i paparazzi del settimanale gente, che ha immortalato l'ingegnere appena arrivato. Lui ha incontrato prima un'altra donna, poi ha capito cosa stesse succedendo. Già si era immaginato che Belen avesse avuto problemi col fidanzato Angelo Galvano, dato che non era tra gli invitati del compleanno della sudamericana. Ed effettivamente l'ingegnere originario della Sicilia aveva raggiunto col suo scooter la casa della sua dolce metà per un incontro. Incontro che non c'è mai stato, anche perché l'amica in comune Matilde Bruzzone non ha voluto essere la mediatrice per permettere il faccia a faccia. Belen non è mai scesa per incontrare Angelo, dunque la storia d'amore sarebbe ormai finita. Si è beccato un due di picche, come riportato da gente, e lui se n'è andato sempre col suo scooter con uno sguardo molto triste. Il settimanale, che ha postato le foto in anteprima, ha commentato, la showgirl ne rottama un altro. Cacciato anche l'ultimo fidanzato. Quindi, Belen sarebbe da considerare nuovamente single. Non sappiamo se potranno esserci margini per un ricongiungimento o se ormai la relazione sia da ritenere chiusa a tutti gli effetti.